La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro si era già regalata uno splendido Natale scartando il regalo più desiderato nella vittoria di Brindisi. Ora la VL si apparecchia un 2021 sempre più interessante grazie al convincente successo 84-74 ottenuto sull'Allianz Trieste. A pochi giorni dall'infortunio di Massinet la squadra di Repesia sfodera una prestazione autoritaria gratificata da una eccellente prestazione di Zanotti con 21 punti, 6 rimbalzi e probabilmente la sua migliore prestazione in bianco-rosso. Sicuramente sono molto contento di aver fatto questa partita anche perché è il mio record personale quindi è giusto essere contenti. Non penso che sia del tutto merito mio ma soprattutto anche della mia squadra che mi ha passato la palla nei momenti in cui caldi e quindi ha avuto fiducia in me. Quindi sono molto più contento per questo motivo piuttosto che per le statistiche. Dopo aver vinto contro il capolista di Brindisi un'altra partita difficile contro Trieste un buon momento dove può arrivare questa Carpegna Prosciutto Simone? Preferisco non parlare troppo in queste situazioni però posso dire solo che in questi anni che sto vivendo a Pesaro questo è sicuramente l'anno in cui la squadra non parlo solamente del campo ma anche in spogliatoio al di fuori del campo. Con tutta questa situazione sta andando molto bene ci troviamo benissimo tra italiani e americani c'è un grandissimo feeling quindi è bellissima questa cosa. Anche in allenamento in settimana ci divertiamo, lavoriamo tanto, intensi quindi poi la partita la domenica si vede, si vedono tutte queste cose quindi sono contento di tutta questa situazione. Non siamo partiti in difesa come volevamo, tanti canestri subiti facili, backdoor, tagli sotto canestro, tiri da tre punti. Per fortuna abbiamo fatto bene in attacco, abbiamo segnato 26 punti se mi ricordo bene primo quarto, 25-26 non mi ricordo primo quarto. E' così, a un certo punto quando siamo andati più 10 sembrava che è arrivato tempo per uccidere la partita ma per sfortuna non siamo riusciti, anzi sono tornati a fine prima prima di tempo una partita quasi completamente equilibrata. Abbiamo vinto, faccio complimenti ai ragazzi perché è una vittoria stra importante diciamo con pieno rispetto per le nostre sei vittorie e con un avversario che è un avversario diretto per salvezza diciamo così e è sicuro che questa partita conta molto per noi. Con la vittoria su Trieste la VL sale a 12 punti, al quinto posto in classifica e mercoledì a Bologna giocherà l'ultimo capitolo del suo 2020 nel recupero che la vedrà opposta alla Virtus. Ottima VL, stratosferica e tal service che al Paladino Pizza strapazza il Real San Giuseppe per 8-0. Tre gol di Borruto, due di De Oliveira e una rete ciascuno per Marcelinho, Canal e Jefferson in una partita mai in discussione. Anche il 2020 dell'Ital Service si concluderà mercoledì con il match di recupero in casa del Cam e Dosson appaiato in classifica ai pesaresi. Partita che come sempre si potrà seguire in diretta su Rossini TV.